Monte Oe che occupa lo stallo numero 9, tutto pronto, partiti i cavalli della settima corsa. Dall'esterno prova subito General Ilburn a fare partenza all'interno con il pesino Saida, poi in terza posizione Keylinse che subito dall'esterno fa un volo per portarsi al comando, in quarta c'è invece l'altra giuba rossa che è quella di Zacca Strada al cui interno galoppa She's got the power, a precedere Bridge Focus Wish, tu tu sai, a chiudere il gruppo troviamo Monte Oe. Keylinse l'ha presa abbastanza allegra in questa fase con circa 5 lunghezze di vantaggio rispetto a Saida, poi Zacca Strada, General Ilburn, poi c'è il volo esterno anche di Bridge Focus Wish, She's got the power, poi tu tu sai e a chiudere il gruppo troviamo sempre Dolce Amira insieme al resto della compagnia. Siamo già addirittura d'arrivo con Keylinse che ha respirato, Antonio Fresu si guarda alle spalle per capire quando fare lo strappo decisivo, quasi le intersezioni delle piste, tenta la rincorsa She's got the power insieme alla stessa Saida, poi Zacca Strada che si unisce alla lotta, c'è stato un infortunio che è quello di Bridge Focus Wish con 500 metri da percorrere, Keylinse in vantaggio nei confronti di Saida, poi General Ilburn che si aggiunge alla lotta e prova a fare lo scatto, ci prova anche Zacca Strada, She's got the power che in questo momento prova ad andare all'inseguimento dello stesso Keylinse che però sta sfuggendo via con 150 metri dal traguardo che mancano, si mette in marcia anche Tutu Sa, Keylinse che però completa il costo costa quando mancano 100 metri dal traguardo Tutu Sa che si avvicina ma ormai è tutto fatto, Saida prende il secondo, terzo Tutu Sa da un capo all'altro perfetto costo 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 per Keylinse, Antonio Fresu in sella il training è quello di Luigi Di Dio, i colori sono quelli della scuderia rosso-blu la lotta per le piazze dovrebbe averla risolta Saida e per il terzo Tutu Sa numericamente 6, 9, 2 l'ordine d'arrivo ufficioso numerico della settima corsa da Capanelle per ora è la nostra postazione, è tutto Grazie a tutti